Quarta giornata del campionato di eccellenza regionale pone di fronte il Ponte Valleceppi che gioca ancora sul Neuto di Pere Antonio e il Lama, partita interessante con gli ospiti reduci dalla prestigiosa vittoria sul Bastia mentre i locali reduci dalla sconfitta di Spoleto che intendono rifarsi andando alla ricerca della prima vittoria di questo campionato. Per l'occasione recuperano quasi tutti gli indisponibili lasciando comunque in panchina Sinisi e Rignicoli. Locali in casacca bianco-rossa, ospiti in quella bianconera dirige Ilaria Pussanzini della sezione di Foligno. Avvio veloce delle due squadre con sippermazia territoriale da parte dei locali ma rendersi pericolosi per primi con Giovacchini sono gli ospiti all'ottavo. Il Lama passa in contropiede con Bartolini che porta in vantaggio la sua squadra. Nemmeno il tempo di assaporare il vantaggio che arriva il pari di Urbanelli. Sui reali dell'entusiasmo il Ponte Vallecepi prova a ribaltare il risultato con un colpo di testa di Battaglini che finisce di poco alato. Ancora locali pericolosi questa volta con D'Ambrosio che manda di poco fuori. Al ventiquattresimo il Ponte Vallecepi raggiunge l'agoniato vantaggio con un bel gol di Vispi che con un preciso sinistro manda la palla ad incocciare sul palo per poi finire in fondo alla rete. Il primo tempo finisce con le squadre ancora decise a darsi battaglia ma con i locali in vantaggio per due reti ad una. Con le immagini di Roberto Siena andiamo a vedere cosa è successo nel corso di questo secondo tempo che inizia con gli stessi effettivi del primo e con i locali decisi a chiudere l'incontro. Ma gli ospiti pronti a rispondere di rimessa ne scaturisce una gara interessante che però dura pochi minuti perché con il passare del tempo la gara cala d'intensità con il Ponte Vallecepi che cerca di mantenere il possesso del pallone mentre il Lama prova ad accelerare quando può ma manca della necessaria lucidità per combinare qualcosa di interessante. Preme comunque il Lama alla ricerca del pari ma trova sulla sua strada un Ponte Vallecepi che non concede spazi ma pronto a farsi minaccioso come al 38esimo con questo tiro di Sinisi che si perde sul fondo. Alla 41esimo ci prova l'altro subentrato Betti per i locali che manda di poco sopra la traversa. Il Lama prova a raddrizzare le sorti dell'incontro spingendosi in avanti nelle battute finali dell'incontro con maggior decisione ma la resistenza e la lucidità manca e quindi favorisce la difesa del Ponte Vallecepi che così riesce a portare a casa questa prima vittoria del campionato anche perché nelle battute finali un tiro di Bartolini del Lama scheggia la traversa prima di finire sul fondo. Sì è arrivata la prima vittoria del campionato ma soprattutto è arrivata dopo una prestazione molto positiva perché nel primo tempo secondo me abbiamo fatto molto bene in tutti i reparti siamo stati corti anche se eravamo andati in svantaggio e quindi il gol ci poteva creare qualche problema e qualche insicurezza invece siamo stati bravi a rifarlo subito dopo un minuto e poi abbiamo messo sempre palla a terra, abbiamo sempre aggrito l'avversario. Sì sicuramente, comunque avevamo partito anche abbastanza bene, avevamo trovato il gol e dopo un minuto ci hanno subito pareggiato e lei un po' ci ha tagliato le gambe, ci ha tagliato le gambe e dopo hanno riuscito con un bel gol a fare il 2-1 e poi niente abbiamo iniziato a giocare anche abbastanza bene a mio avviso e abbiamo ricreato qualcosa non siamo riusciti a finalizzare, dopo il secondo tempo siamo ripartiti, secondo me sembra abbastanza bene però non voglio parlare di sfortuna perché la sfortuna non appartiene al calcio.